La consulenza individuale è un corso a tu per tu che ti permette di approfondire gli argomenti per te più importanti. In base agli argomenti che vuoi approfondire si può decidere se fare una, due o tre giornate, anche quattro. Dipende chiaramente da quali sono i tuoi obiettivi. Applicheremo le tecniche che ti servono direttamente agli argomenti importanti per te. Possono essere le mappe mentali, la lettura veloce oppure memorizzare un copione teatrale. Dipende chiaramente da quello che sono le tue esigenze. Per trarre il massimo beneficio dalla consulenza individuale, la cosa che mi sento di suggerirti è quella di non mettere troppa carne al fuoco. Alcuni mi chiedono, guarda voglio imparare l'inglese, le mappe mentali, le tecniche di apprendimento rapido. Concentrati su una cosa e diventa bravo su quella. E dopo al limite, dopo un po' di tempo, andremo ad approfondire l'argomento nuovo che ti sta a cuore. Tre motivi per cui partecipare. Il primo, metterò tutta la mia competenza a tua disposizione. Il secondo, potrai stabilire tu il periodo in cui affrontare questo percorso. Il terzo, mi potrai fare tutte le domande che vuoi per chiarire qualsiasi tuo dubbio. Consulenza individuale, le tue competenze determinano i tuoi risultati. Competenze migliori equivale a risultati migliori.